Un mese di novembre all'insegna delle iniziative contro la violenza delle donne si è concluso oggi inaugurando nella sede della provincia di Pesaro Urbino una panchina rossa, ovvero un'installazione stabile e permanente dell'avversità alla violenza di genere con tanto di promemoria ai numeri di emergenza e alle strutture che aiutano nell'affrontare il problema. E ricordiamo il 1522 che è un numero importante, un numero immediato che passa subito la chiamata al centro antiviolenza più vicino ma soprattutto ricordiamo che se siamo in una situazione di emergenza dobbiamo chiamare le forze dell'ordine. L'anno scorso abbiamo accolto 185 donne al centro antiviolenza quindi il nostro lavoro ovviamente continua, questi eventi sono sempre molto importanti e sono importanti parlare con i cittadini, lasciare un messaggio ai cittadini, ancora più importante è lavorare in rete soprattutto e lavorare con i giovani e le giovani quindi continuare la nostra formazione e sensibilizzazione nelle scuole. Settimana di iniziative che l'ente provinciale ha voluto affrontare a partire dal problema del linguaggio, producendo un prontuario che valorizza le differenze linguistiche e discutendolo alla presenza della sociolinguista Vera Gheno. È stata una grandissima esperienza e mi sono accorto che tante volte usiamo dei linguaggi che possono involontariamente anche ferire, per cui un minimo di attenzione ci vuole perché le parole hanno la loro importanza e con le parole puoi veramente fare del mare a una persona senza neanche rendertene conto o accorgertene. Sensibilizzazione che parte da una educazione capillare sui banchi di scuola. Quello che ci viene indicato dallo Stato da noi è già una realtà, io ho rilanciato più di una volta in questi giorni nel dire che benissimo le scuole sono sempre state disponibili in questi discorsi se vogliamo di inclusione, contro ogni forma di discriminazione e di visione di una società ampia. Quello che manca è dare agli genitori, l'altro soggetto implicato nel percorso di formazione di una persona, gli strumenti adatti per essere loro i primi contro ogni forma di stereotipo o forma strutturata di pensiero patriarcale che come vediamo nelle cronache è molto più diffuso rispetto a quello che può essere un pensiero generale sul fenomeno e sulla nostra società. L'intenzione e anche la responsabilità degli enti pubblici, lo diceva il Presidente Paolini, è quello di promuovere degli strumenti, le iniziative che abbiamo promosso tutti quanti insieme in queste settimane, in questi giorni sono proprio in quest'ottica. Dare degli strumenti un po' a tutti i pubblici, a tutti gli ambiti della società per contrastare il fenomeno insieme.